Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Tempo soleggiato e caldo in intensificazione, insomma un'anticipazione d'estate in questo primo weekend di maggio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato sarà contraddistinta dal bel tempo, tanto sole alternato ad annuvolamenti più consistenti sulle zone montane dove nel pomeriggio non si escludono anche locali rovesci. Temperature in aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra i 22 e i 25 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti nelle ore pomeridiane saranno probabili delle piogge sparse. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 23, 24, 25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, anche in questo caso poi nel pomeriggio e soprattutto durante la serata saranno probabili dei locali temporali. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.